Dicevo che siamo entrati in una nuova dimensione questa sera perché la dimensione del numero 8 questa sera ha un nome anche particolare secondo i chassidim c'è questa nuova nuova recente chiamamola recente stiamo parlando di alcune centinaia di anni che l'ultimo giorno di ha anche il suo nome dato che domani mattina in sinagoga leggeremo una parte della Torah molto bella molto importante il riassunto e il totale il calcolo finale di tutte le offerte portate per la costruzione del tabernacolo del Mishkan alla fine tutto questo era stato fatto per l'inaugurazione del Mishkan per l'inaugurazione del Mishkan il motivo per il quale Hashem ci ha comandato di costruirgli una casa è tutta concentrata sul Mishkan sull'altare perché l'altare è il il luogo dove si ria-pacifica Hashem con noi quindi il posto più importante ci sono tantissimi dettagli Questi dettagli nel Beit HaMikdash, nel suo altario, c'è la menorah, c'è il tavolo coi pani, c'è l'altare dell'incenso, ci sono anche le tavole della legge dove Koen Gadol soltanto una volta all'anno poteva entrare, però questi sono soltanto dettagli. Il punto centrale era il Misbeach, era l'altare. Quindi tutto questo era stato fatto, la Torah lo dice, Zot Hanukkata Misbeach. Questa è l'inaugurazione del Misbeach, nonostante che siano stati offerti i doni per tante diverse cose. Ora, la parola Zot la ritroviamo qualche volta nella Torah. La troviamo nella Torah quando si parla dell'ottavo giorno, perché, l'avevo appena letto, infatti, il Maral di Pragera è il grande... non sto a raccontarmi. L'autore del Golem ha scritto dei libri segreti della Torah e ha legato l'ultimo giorno di Hanukkah con il giorno del Brit Mila, perché sul Brit Mila c'è scritto Zot Beritia Shertishmuro. Questo è il patto che osserverete. All'ottavo giorno dovrete fare il Brit Mila. Quindi qui abbiamo la parola Zot. Poi abbiamo anche, come dicevo, nell'inaugurazione Hanukkah del Misbeach, la parola Zot. Quindi si impara che la parola Zot sta per il numero 8. Il numero 8 è il numero che è superiore ai limiti della creazione. Infatti noi, tutte le Mitzvot, siamo molto legati con il numero 7. Il settimo giorno, abbiamo Tishrei che è il settimo mese, abbiamo il settimo anno che la terra non può lavorare, abbiamo 7 volte 7, poi arriva il cinquantesimo anno, fa 49 più 1, che è l'anno del giubileo. Ci sono tantissime idee legate al numero 7, ma c'è il numero 8. Il numero 8 è il numero dell'infinito, il numero dove Hashem non ci comanda. Siamo noi che possiamo e dobbiamo raggiungere. Infatti la festa di Hanukkah ha questa particolarità, che i nostri saggi ci dicono che quando arriverà Mashiach, presto nei nostri giorni, tutte le feste saranno annullate, a parte Hanukkah e Purim. Annullate non nel senso che non mangeremo più la mazzà e non andremo più nella sukka, annullate nel senso che la luce, la potenza, l'energia che emanerà in questo periodo, questa era di mera messianica sarà più forte di quello che noi percepiamo e potremmo percepire con Pesach, Shavuot e Sukkot, Rosh Hashanah e Kippur. Ma quello che percepiremo a Hanukkah sarà comunque superiore all'era messianica stessa. Perché? Perché quello che ci è stato dato lo riceviamo tale e quale come è. Quindi le festività che Hashem ci ha imposto, ci ha regalato, lo Shabbat e tutte le altre feste, hanno un loro livello, una loro misura di emanazione di luce. Quando si parla di Hanukkah, Hanukkah è un livello che abbiamo raggiunto noi grazie alla nostra stessa evoluta autospremitura, per quello che la festa di Hanukkah è l'olio, ma non è una lezione di Hanukkah, era soltanto per dirvi buonasera. Quindi abbiamo il numero 8, che è il numero dell'infinito, che è il numero che è superiore a qualsiasi altra cosa e questa è la sera in cui noi stiamo vivendo. Quindi dai Hassidim, questa sera è una sera molto molto importante, c'è una luce molto forte. Addirittura c'è scritto che l'ultavo giorno di Hanukkah è l'ultimo giorno in cui possiamo ancora recuperare la teshuva che noi abbiamo fatto a Rosh Hashanah e a Kippur. Quindi a Kadosh Baruch ci aspetta fino all'ultimo giorno di Hanukkah, perché c'è scritto che Avon Yaakov, diciamo la trasgressione del popolo di Israele, Bezot Yehupar. Così dice il libro Yeshayahu, nel Zot, nel Zot, che abbiamo detto che è Zot, Hanukkah, Zot, Beritik, è l'ottavo giorno, che è l'ultimo giorno di Hanukkah, in cui domani leggeremo Zot, Hanukkah, Tamizbeach. Quindi abbiamo anche un versetto nel libro di Yeshayahu che ci dice che abbiamo la possibilità di essere perdonati nel Zot. Settimana scorsa abbiamo raccontato qualcosina di Rabbi Israel Mirujim, che ha dato una spiegazione bellissima su Yosef, che ha detto che ha fatto di Hashem il padrone di Mitzraim. Lo stesso Rabbi Israel Mirujim ha detto che quello che i grandissimi tzaddikim possono, se riescono ad ottenere da Hashem, a Rosh Hashanah e Kippur, può ogni semplice persona ottenere da Hashem l'ultimo giorno di Hanukkah, il giorno di Zot, Hanukkah. Quindi approfittiamo di questo giorno così elevato, superiore a qualsiasi livello e limite della natura che è sottomessa al numero 7. Siamo nel numero 8 e possiamo, ognuno di noi, senza essere ai livelli che, grandizza di chi mi hanno ottenuto, hanno raggiunto per poter fare quello che loro riescono a fare in altri giorni dell'anno. Mi fermo qui e torniamo a parlare del Tanya. Ci siamo fermati settimana scorsa parlando un pochino dei sogni. Però mi brucia, mi brucia nelle labbra. Volevo aggiungere qualcosa su Hanukkah. Una cosina carina che forse vale la pena sentire. Noi abbiamo parlato delle feste. Noi abbiamo nelle festività ebraiche abbiamo un legame molto stretto con il periodo del calendario. In altre parole, noi siamo legati con la luna. Quindi noi Rosh Chodesh, che era oggi, la festeggiamo perché è rinata la luna. Rosh Hashanah, il giorno più significativo dell'anno, è proprio il primo del mese. Al 6 del mese abbiamo la festa di Shavuot, dove Hashem ci ha donato la Torah. Poi abbiamo il 10 del mese, abbiamo Yom Kippur. E poi il 14 del mese abbiamo Purim. E il 15 del mese abbiamo Pesach e Sukkot. Ho riassunto tutte le festività. Avete notato qualcosa? Che tutte le festività ebraiche sono dal primo al 15 del mese. Perché? Perché al primo del mese rinasce la luna, inizia a splendere, fino ad arrivare al suo apice, al suo completamento il 15 del mese. Non abbiamo festività dal 15 del mese in poi. Aia, Hanukkah. Hanukkah è proprio alla fine del mese. Non ci riconosciamo in una festività che rappresenta la nostra discesa. Perché noi che siamo stati paragonati alla luna e per quello che contiamo il calendario lunare, anche se il calendario solare è un po' più facile, perché sul calendario solare tu perdi un giorno ogni quattro anni. Invece nel calendario lunare ne perdi dieci ogni anno. Quindi ogni tre anni devi aggiungere un mese. Quest'anno abbiamo l'anno con due a dar perché ogni tre anni perdiamo 29 giorni. Cosa succede? Succede che la scema ha detto no, voi siete come la luna. Avete dei momenti in cui splendete, avete dei momenti in cui calate, avete dei momenti in cui sembrate addirittura che non ci siete più, ma rinascete subito dopo e quindi dovete essere legati alla luna. Quindi tutte le nostre festività sono legate alla luna. Cosa succede a Hanukkah? A Hanukkah succede che noi iniziamo una festività quando la luna sta per sparire e in mezzo alla festa la luna sparisce. Ed è una cosa molto particolare, una cosa unica. Come si spiega? Si spiega con una storia legata ad un'opera d'arte. Se io vi chiedo qual è l'opera d'arte, il quadro più famoso, sono convinto che facilmente potete rispondere. Dai, qualcuno? Il famoso del mondo? È la gioconda di Leonardo. La gioconda. Dai, la gioconda. Aggiudicata la gioconda. Se vogliamo approfondire il motivo per il quale la Mona Lisa è il quadro più famoso del mondo, è perché l'ha fatto Leonardo, ma ne ha fatti anche altri, è perché non si sa chi è, se era veramente sua moglie, se non è mai esistita questa figura. Il sorriso che ha, che non si sa se... Mille motivi, potremmo parlarne tantissimo tempo, non è questo l'argomento. Una cosa interessante, che forse non tutti sanno. Sappiamo tutti che la gioconda si trova a Parigi, a Louvre. Oggi la gioconda ha una sala dedicata. Io non ci sono stato, ci sono solo passato davanti, ma purtroppo, o per fortuna, più di tanto non mi interessava. Avevo un amico che mi diceva andiamo a vedere la gioconda. No. Si è andato avanti per la mia strada. Mi è stato raccontato che c'è una stanza che è dedicata a questo quadro. ci sono tutti i sistemi di sicurezza, ci sono le telecamere, c'è tutto quello per, tutto ciò che serve per fare da deterrente a qualsiasi malintenzionato. Dovete sapere che nel 1911 la gioconda è stata trafugata da un italiano, si chiamava Vincenzo Perugia, con due G. Lui lavorava al Louvre e ha trovato il momento adatto per poterla portare via. E l'ha portata via. C'è una discussione se l'ha fatto per motivi patriottici o per motivi di semplice lucro. Per due anni la gioconda non c'era più. Dal 1911 fino al settembre del 1913. La cosa interessante è che ai tempi la gioconda non era valutata come lo è oggi. Quindi c'era una stanza con tanti quadri e tra i quadri c'era la gioconda. Quando è sparita dallo Louvre, noi oggi sappiamo, fino al Covid, che ogni anno arrivano 10 milioni di turisti che vengono a vedere questa opera d'arte. Gli ultimi due anni non abbiamo i dati. Covid permettendo si tornerà a fare... questo forse è un motivo per il quale i francesi se la tengono così stretta perché porta tanti soldi con i turisti. Però lui ha fatto un calcolo molto semplice dico io siete ladri voi faccio ladro anch'io. Voi siete francesi non vi appartiene io sono italiano mi appartiene quindi tra voi e io la gioconda appartiene più a me che a voi. Comunque l'ha portata via nel settembre è stata ritrovata e la cosa interessante dicevo 10 milioni di persone oggi ai tempi non chiaramente erano altri numeri però quello che era incredibile è che nel periodo tra il 1911 e il 1913 quando la gioconda non c'era nel muro c'era solo il chiodino sono venute tre volte il numero di persone a vedere il muro dove la gioconda non c'è più e come si spiega questa cosa? Si spiega perché quando c'è qualcosa siamo abituati a questa cosa e quindi non diamo il giusto peso il giusto valore quando invece viene a mancare ci ricordiamo e iniziamo a riflettere su tutto quello che rappresentava il valore che aveva che adesso non c'è più ieri abbiamo letto un brano nell'Aftara che Davide il re Davide Davide Melech aveva un amico che era tutt'uno con lui l'amicizia assoluta i Chachamim testimoniano che non c'era amicizia più grande dell'amicizia di Davide e Ionatan e Ionatan sapeva che il padre Shaul il re Shaul ce l'aveva a morte con Davide e gli dice domani e si è invitato a tavola con noi ti prego non venire però sappi che si parlerà di te perché la tua sedia sarà vuota dice così il Pasuk venifkadeta si chiederà di te si parlerà di te ci si interrogerà sul tuo stato di salute sul motivo per il quale tu non sei presente perché non ci sei quindi ci sono dei momenti in cui noi tendiamo ad essere a un livello così basso che quasi non ci siamo però lì viene Hanukkah e lì ci porta la luce con l'olio la storia dei Hashmonaim è la storia che ci racconta di un livello così basso che più basso non si può da lì abbiamo ottenuto la consapevolezza di avere un motore turbo all'interno che spremendoci ci ha tirato fuori da questo buio e ci ha regalato il coraggio di poter riportare Hashem nel Bet Hamikdash sapete che i Maccabèi abitavano a Modin perché a Yerushalayim era vietato a un osservante di abitare il Bet Hamikdash era diventato un posto di idolatria era sporco impuro e tutto il peggio che si può immaginare infatti quando sono rientrati tra tutte le cose che dovevano fare era dover ricostruire una menorah non c'era più neanche la menorah e quindi la festa di Hanukkah ci insegna proprio questo che nei momenti in cui la luna cala nei momenti in cui la luna sta per sparire non illumina più lì noi possiamo ritrovare la nostra forza come vi dicevo la settimana scorsa con Yosef Yosef e Yehuda che discutevano sul fatto se si può essere quello che si è anche lontani e Yehuda diceva no bisogna rimanere nelle mura e Yosef diceva io posso andare anche nelle prigioni dei peggiori assassini criminali dell'Egitto il posto più impuro il posto più immorale e lì ti faccio vedere che si può essere quello che si deve essere perché dentro ognuno di noi c'è una forza infinita come le luci che una ne può accendere mille all'infinito diecimila all'infinito questa è la forza della luce e questo è quello che rappresenta Hanukkah mi bruciavo le labbra ve l'ho raccontata adesso facciamo un po' di tani bene torniamo a noi adesso dobbiamo parlare del buio perché nel Tania si parla anche di questo vi ricordate la storia della settimana scorsa del Hassid Rabbi Shmuel Munkis che è andato dal autore del Tania e gli ha detto ma da te non c'è buio ha detto se da me non c'è buio hai scelto la casa sbagliata questo era il senso della storia perché l'autore del Tania ha dedicato la sua vita per portare luce lì dove c'è buio trasformare il buio in luce quando uno ti dice non c'è buio allora vuol dire che non siamo di questa terra siamo in cielo a volte scherzando si dice di qualcuno che sei così bravo che non dovresti neanche appartenere alla gente di questo mondo in altre parole lo si manda a morire questo mondo è un mondo dove c'è il buio questo mondo è il mondo dove bisogna affrontare le difficoltà gli ostacoli e tutte le prove che ci vengono messe davanti come si fa il Tania ce lo insegna allora riprendo un pochino l'argomento poi alla fine non mancherò anche se a vostra malavoglia di leggere un pochino dal testo l'autore del Tania ci dice che noi a differenza di tutto il resto del creato il creato è composto dal mondo minerale il mondo vegetale il mondo animale l'uomo l'autore del Tania dice che a differenza da tutto il resto del creato l'uomo ha la capacità il permesso e la possibilità di trasgredire quindi se io faccio uno più uno e mi metto davanti a un animale feroce della foresta e gli dico guarda quest'animale crudele non ha sentimenti non ha emozioni abbandona partorisce i bambini li abbandona per mangiare sbrana un altro animale tutte le cose più brutte che si possono immaginare su un animale perché è un animale l'autora del Tania ti mette lo specchio davanti e dice sai che lui non ha mai e non potrà mai trasgredire la volontà di Hashem mentre tu anche se non lo fai diciamo che teoricamente teoricamente perché abbiamo la capacità la possibilità in quanto Benonim perché di Benonim stiamo parlando dell'uomo che non fa peccati ma ha il potenziale di trasgredire chi sta peggio tu o l'animale feroce della foresta perché l'autore del Tania vuole farci fare questa riflessione perché vuole spiegarci che ci sono momenti nella vita in cui noi dobbiamo farci a pezzi soltanto così potremo illuminare se io prendo un un pezzo di legno e voglio accendere la menorah di Hanukkah con un pezzo di legno non succederà mai dovrò prendere questo pezzo di legno e farne dei piccoli bastoncini farlo a pezzi e solo così potrà illuminare come l'esempio che abbiamo dato all'inizio del capitolo quindi se io vedo uno strisciante per terra che non riesco neanche a guardarlo e Hashem me l'ha fatto vedere è perché vuole ricordarci che in un certo senso lui si trova meglio di te ora ci sono tipi diversi di persone i tzadikim sono quelli che non trasgrediranno e non sono più capaci di farlo i benonim sono quelli che non lo fanno perché sanno come gestire e governare i propri istinti quelli che sono sotto i benonim alcune cose le possono anche fare alcune trasgressioni chi una volta al mese chi una volta all'anno chi tutti i giorni ci sono cose che noi possiamo pensare delle trasgressioni a cui possiamo pensare però sappiamo che c'è una linea rossa invalicabile no quello no quello è troppo quello non non ci arriverò mai a meno che uno non crede che forse è arrivato il momento di allargare un pochino gli orizzonti dice perché no se fino ad oggi ho fatto questo ho fatto l'altro ho fatto l'altro perché non questo ci sono dei limiti che una persona crede crede di potersi mettere dei paletti delle recinzioni ma non sai mai quanto veramente puoi portarti lontano gli orizzonti sono infiniti c'era un un ragazzo come si dice ha iniziato a perdere i freni ha avuto un'educazione perfetta ha avuto tutto quello che gli serviva per poter essere un bravo ragazzo però purtroppo è scivolato e quando parlavamo con lui diceva no 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 non guardatemi così voi so che mi vedete come un mostro io mi sono preposto dei limiti allora gli dicevamo non è un problema che tu hai dei limiti i limiti ogni persona se li può mettere ma tu non conosci quali sono i limiti del tuo Yetzarara tu hai limiti ma il tuo Yetzarara non ce li ha quindi quando uno inizia a scivolare chi ti ferma più è come credere che tu dici a un uomo avido di soldi guarda che guadagnerà solo tot e poi basta ha solo bisogno di comprare questo l'altro e poi basta quando uno è avido di soldi fino all'ultimo respiro pensa a come guadagnare altri soldi anche se è aletto malato morente pensa solo ai soldi famosa barzelletta che non racconterò questo è il problema come un bambino in classe il bambino in classe entra in classe vede il maestro che non ha tutta questa autorità che un maestro dovrebbe avere allora ci prova ci prova ancora un po' vuole misurare vuole valutare i limiti della sopportazione della pazienza del maestro oppure sappiamo bene in Israele c'è una pace molto molto precaria ogni tanto caricano qualche missile e lo sparano e dicono vediamo cosa succede se lo mandiamo a Sderot che è a 10 km se arriva Israel Defense Force se arriva al Zahal e con tre bombe tira giù tutto loro arsenale allora sanno che non possono però se Israele fa finta dice no era una cosa poi li vanno avanti e arrivano fino a Tel Aviv arrivano fino a Yerushalayim arrivano fino perché perché è così perché il male è male il male non ha limiti una persona dice no io mi faccio dei limiti ma se ormai stai trasgredendo qual è il limite non c'è limite quindi ci vuole fare l'autore del Tania questa riflessione ci vuole far fare questa riflessione solo sapere solo sapere che siamo potenzialmente dei trasgressori ci rende lo dico a bassa voce ci rende peggiori degli animali e questa è questa è la realtà perché devo pensare a tutte queste cose che bene mi porta vuole rendermi Hasve Shalom una persona triste vuole farmi cadere nella depressione vado in giro vedo i topi in mezzo alla strada e dico io sono peggio di voi non è quello il senso il senso è che solo così io posso venirne fuori se sono convinto che nel guscio dove mi trovo sono l'uomo perfetto rimarrò sempre quella menzogna che mi trovo leggevo ieri qualcosa di molto bello su Moshe Rabbeno che implorava Hashem pregava e piangeva e urlava Hashem Hashem la parola la parola vero è una parola che può vantare solo Hashem noi in quanto esseri umani la parola vero solo il fatto che oggi ci siamo domani non ci siamo non è vero una cosa vera è una cosa eterna una volta ho fatto questo esempio se io sono nato il primo gennaio lo sarà vero anche fra mille anni una cosa vera è una cosa eterna e Moshe Rabbeno implorava Hashem Hashem fammi conoscere Emet del chassidim si usava dire si usa ancora dire quella persona è Emet non si può dire ma si può dire quella persona è lontanissima dalla bugia dalla menzogna vuol dire che ha lavorato su se stesso così tanto che quello che ti sembra è quello che è ed è diciamo una qualità forse la qualità più nobile che c'è in questo mondo e quindi dicevamo che noi trovandoci nel nostro guscio e questo guscio è un cuore di pietra che non ci fa sentire non ci trasmette perché è schermato ci sono i segnali che devono arrivare dalla nostra anima ma il nostro cuore è chiuso è schermato non sentiamo non abbiamo emozioni non abbiamo sentimenti l'autore del Tania ci riporta allo Zohar che racconta che il Rosh Hashiva del Gan Eden aveva detto che un blocco di legno non prende fuoco devi farlo a pezzi quindi facciamo a pezzi il nostro cuore nel modo nel senso metaforico come dicevano i Hasidim e dicono ancora i Hasidim che non c'è nulla di più completo e di più integro che un cuore fatto a pezzi perché soltanto un cuore fatto a pezzi nel senso che ha perso il suo guscio è un cuore vero un cuore integro intanto che il cuore è insensibile non c'è niente di integro non c'è niente di reale e non c'è niente di completo un cuore completo un cuore che chi se lo porta dietro è riuscito a farlo a pezzi tutto questo serve per aprire il nostro cuore nei momenti di necessità c'è una cosa interessante c'è un brano del Pirke Avot che se mi date dieci secondi vado a prenderlo perché ce l'ho in italiano è più facile da spiegare dieci secondi arrivo ecco mi vediamo se lo trovo in un attimo provato subito incredibile sesto capitolo di Pirke Avot Mishnah numero due disse Rabi Yushua figlio di Levi ogni giorno una voce proveniente dal monte di Horev che è il monte di Sinai annuncia e dice guai a voi mortali se recate affronto alla Torah perché chi non si occupa dello studio della Torah è chiamato Biasimevole Nasuf come detto un pendente d'oro nel naso di un maiale tale è una bella donna insulsa di mente mi fermo in altre parole come mettere dei gioielli su un suino questo è quello che vuol dire allora io vi faccio una domanda se io voglio che a questa lezione arrivassero più persone cosa faccio faccio una pubblicità e dico guai a voi com'è il linguaggio guai a voi mortali se non venite alla lezione di Tania domenica sera secondo voi quanta gente arriva la prima cosa che la gente pensa esatto secondo voi che reazione ha la gente prima cosa che pensa queste qua è una setta di matti allontaniamoci più possibile però se io leggo perché a volte c'è scritto questo c'è scritto chi non studia Torah è chiamato Nasuf Nasuf vuol dire una persona che è stata allontanata con la rabbia dal re questo è il significato della parola perché la Torah è il nostro gioiello siamo stati addornati della Torah ma se non studiamo Torah abbiamo dei gioielli che non ci appartengono ok ma non è il modo non è il modo il Rebbe spiega che qui c'è una parola è stato tradotto mortali però in ebraico c'è scritto Beryot Beryot vuol dire non stiamo parlando di persone non stiamo parlando del popolo eletto non stiamo parlando di una certo tipo di nobilità stiamo parlando di una forma fisica umana a cui non puoi dare nessun altro titolo che quello di essere una creatura Beryat vuol dire una creatura quindi qui la Mishnah dice Oila Emla Beryot guai poveri voi creature che non siete altro creature dall'affronto alla Torah quando non la studiate qui i Chachamim non stanno parlando a persone che già studiano Torah a persone che hanno un certo livello spirituale che hanno raggiunto dei livelli con la loro anima ne parleremo alla fine se abbiamo ancora un po' di tempo ci colleghiamo di nuovo ai sogni di Yosef qui stiamo parlando di persone che devono sentire queste parole perché sono arrivate a un livello così basso che solo queste parole possono fare su di loro questo effetto perché io devo cosa dice la Mishnah dice che ogni giorno c'è un eco dal cielo noi non lo sentiamo però c'è che dice queste cose ci sono ogni mattina ogni giorno la Mishnah ne ha portati diversi degli echi del cielo quello che succederà domani quello che succederà fra un mese c'è chi sente c'è chi non sente ma ci sono queste voci e tra questi echi c'è questo eco che dice poveri voi che recate affronto alla Torah che non studiate Torah che non fate della Torah non date alla Torah il valore che si merita come dicevo ci sono delle persone che sono arrivate a un livello così basso che si chiamano Beryot più di questo no a loro bisogna parlare così mi è venuta in mente un'altra storia del Talmud c'era un 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 grande Saddi che era Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon erano dei erano i leader delle loro generazioni che stava tornando a casa sua dopo aver fatto una lezione di Torah vede un signore si avvicina a lui e gli dice mamma mia come sei brutto quello lo guarda e Rabbi Elazar dice ma dove abiti tu sono tutti brutti come sei te e chiaramente questa persona si è offesa e gli dice ma cosa vieni a dirmi una frase del genere vai da chi mi ha creato vai a lamentarti a lui mica mi sono fatto da solo che razza di frase è come sei brutto ma come si fa a dire una cosa del genere perché una persona sceglie se essere brutto o se essere bello sono tutti brutti come te ma di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di una di una guida spirituale di tutte le generazioni Rabbi Elazar figlio di Rabbi Shimon come fa a dire una frase del genere allora questa questa persona che è stata offesa da Rabbi Elazar ha iniziato a seguirlo dice voglio sapere chi sei a chi insegni torate e arrivano nella città di Rabbi Elazar e vedono tutti gli abitanti del villaggio che escono a riceverlo per dare il giusto cavò da Rabbi Elazar allora lui si rivolge a loro e dice ah questo è il vostro maestro ma sapete che cosa mi ha appena detto mi ha appena chiesto mi ha chiesto se sono tutti brutti come me nel paese dove abito io e ha fatto un'affermazione sulla mia apparenza fisica ma che discorsi sono allora l'hanno guardato e ha detto ti ha chiesto scusa sì li hai scusato no e non intendo farlo e hanno implorato a questa persona di scusare il loro maestro dopo che lui stesso ha chiesto scusa e non ha voluto accettare le scuse e dopo che tutta la gente del villaggio l'hanno implorato di scusare ha detto va bene ti scuso ma non fare quello che hai fatto con me troppe volte una storia stranissima infatti lo dicono i khachamime lo ripetono mille volte il Talmud la Gemara non si può studiare da solo bisogna studiarla con qualcuno che te la sa interpretare perché c'è dietro questa Gemara un segreto fondamentale bellissimo che cos'era la storia chiaramente Rabbi Lazar figlio di Rabbi Shimon non era lì che stava a guardare chi era bello chi era brutto fisicamente stava parlando della bellezza dell'anima se l'anima splendida o se l'anima come si dice a Roma animaccia nera non sono cose del genere forse sbaglio forse non a Roma comunque è una cosa che ho sentito c'è gente come è scritto nella Torah la Torah dice che sopra le nostre teste c'è una corda che va un raggio di luce che va fino ai cieli avete presente le macchine scontro o il tram o il filobus che per andare avanti hanno bisogno di essere collegati con una fonte elettrica che dà loro l'energia ecco la stessa cosa anche noi ora il Bal Shem Tov raccontava di persone che avevano un fascio nero talmente erano brutti ma brutti spiritualmente e per tre giorni aveva digiunato il Bal Shem Tov perché aveva visto questa famosa storia questo Hirschelzig era un personaggio che nessuno a nessuno dava nessuno dava importanza a questo personaggio in quel villaggio dove il Bal Shem Tov si è trovato ma il Bal Shem Tov continuava a seguirlo perché voleva sapere come ha meritato un fascio di luce così puro così splendente così luminoso che non aveva mai visto prima storia molto lunga perché è così Rabbi Lazar figlio di Rabbi Shem Tov non vede questa persona e dice mamma mia quanto sei brutto perché glielo dice glielo dice perché vuole svegliargli un pochino il suo cuore vuole rompergli un attimino il suo cuore ma quando lui dice ti lamenti con me vai da chi mi ha creato Rabbi Lazar ha capito che ha fatto un errore quale errore quando ha detto questa frase è come se ha sganciato una bomba troppo forte per questa persona qui era brutto ma non era così brutto lui ha subito ricordato il nome di Hashem allora Rabbi Lazar gli chiede scusa dice ho esagerato nella dose della potenza del mio del mio pugno sì ho voluto darti una scossa ma ho esagerato quindi ti chiedo scusa lui chiaramente non ha accettato le scuse e infatti alla fine dice ti perdono ma non farlo troppo cosa vuol dire non farlo troppo anche questa persona ha capito le intenzioni che aveva Rabbi Lazar ha detto ci sono persone che devono essere prese e devono essere scosse finché si rompono a pezzi e lì iniziano a splendere ma fai attenzione a quanto a quanta potenza quanta forza metti nel tuo pugno perché potrebbe a volte fare troppo male oppure potrebbe non servire abbiamo interpretato una storia del Talmud che poteva sembrare veramente molto strana ma il senso è molto semplicemente che abbiamo bisogno ognuno di noi ogni tanto di darci una scossa e come ci diamo una scossa il capitolo 29 ci dà tutta questa serie di consigli arriviamo adesso a leggere due righe all'interno settimana scorsa avevo un problema con la condivisione dello schermo lo rilego velocemente anche perché ho letto solo poche righe leggiamo insieme qualche riga di Tania perché secondo me è molto importante non sono ancora diventato così bravo e non mi funziona vediamo un attimino riprovo credo che funzioni però se mi potete fare un funziona funziona bene ok pagina 176 i sogni rivelano la posizione ve l'avevo letto la settimana scorsa lo rilego velocemente inoltre l'uomo deve ricordare bene non avevo veramente spiegato spero stasera abbiamo ancora una decina di minuti di spiegare inoltre l'uomo deve ricordare bene che gran parte dei suoi sogni sono vanità ed un afflizione una afflizione per lo spirito una sofferenza per lo spirito non essendo la sua anima capace di sollevarsi verso l'altro in altre parole c'è gente che dice sì la Torah dà molta importanza ai sogni quindi i miei sogni hanno molto significato quindi io so di essere una persona molto molto profonda molto spirituale quindi va in giro a raccontare i sogni e se li interpreta e si comporta anche di conseguenza in base a ciò che ha visto nei sogni l'autore del Tanio gli fa fare un atterraggio di emergenza gli dice buono te buono la maggior parte dei sogni gran parte dei sogni sono vanità non è altro che aria è una sofferenza una afflizione per lo spirito perché l'anima tua è rimasta addirittura qua nel mondo fisico i sogni sono una rivelazione dicevo la settimana scorsa che durante la giornata il cervello della persona è troppo pieno di cose fisiche ogni tanto Shen vuole trasmetterci qualcosa quindi approfitta del fatto che dormiamo in cui si libera la mente e lui qualche gocciolina di luce ce la mette dentro questa è l'idea del sogno nel suo il vero significato del sogno però come abbiamo detto stamattina nella tefillah sta scritto chi salirà alla montagna del signore riga 6 colui che ha le mani nette un cuore puro mia leve arashem ne kichapai muvar levav ma ciò che ha origine dalla parte del male vuol dire che ci sono delle forze del male che vengono all'uomo e si attaccano a lui durante il sonno e gli dicono nei suoi sogni cose profane diciamo che tradotto è molto soft perché io lo sto leggendo dall'aramaico che è il testo dello Zohar e le parole qui sono molto dure è stato tradotto in un modo molto molto tranquillo e spesso si beffa di lui e gli fa vedere il falso e lo tormenta nei suoi sogni nel lingua originale è tutto al plurale non so perché qui è al singolare come scritto nello Zohar Vaikra libro 2 pagina 25 ok mi fermo andremo settimana scorsa a continuare settimana prossima a continuare adesso vi volevo per gli ultimi 10 minuti per fare una riflessione sull'idea sempre dei sogni di Iosef domande qualche bella aggiunta io ce l'avrei una domanda grazie se è possibile cioè come si spiega questa divulgazione della psicologia che ha avuto quasi un potere sul quale non si può neanche controbattere no cioè oggi uno psicologo ti chiede cosa hai sognato cosa non hai sognato ti dà dei verdetti ti dici guarda tu devi andare in questa stada tu hai questo problema in poche parole ti fa una radiografia e tu leggendoci questo questo testo ci stai dicendo che praticamente sono passami il termine tutte delle stupidaggini per cui grazie Silvano sì non mi sono espresso bene grazie per questa tua cosa finisci finisci no per cui ho tutto questo è una una bolla di sapone nella quale molta gente purtroppo passa anni e anni e spende un sacco di soldi e poi magari si ritrova in mano poco o niente oppure evidentemente c'è qualcosa di vero c'è sicuramente del vero ti rifaccio la condivisione del schermo così leggi il titolo il titolo c'è scritto i sogni rivelano la posizione come hai detto te ci fanno una radiografia in altre parole i sogni ti dicono dove ti trovi il Tania ci sta dicendo tu credi di essere una persona perfetta tu credi di non aver bisogno di essere fatto a pezzi guarda un po' cosa sogni cioè è una controprova che il Tania ti dà usando i tuoi propri sogni quindi quello che gli psicologi usano oggi come strumento i sogni è una cosa che già lo troviamo da Rabbi Shimon Bar Yochai 1800 anni fa è ancora prima i sogni di Yosef che adesso volevo approfondire ma è una cosa reale il sogno il sogno tu sogni di notte quello che hai vissuto di giorno e se sei un tzaddik tu sogni di notte quello che vivrai il giorno dopo ma siccome tu nei tuoi sogni scusa non parlo per te parlo per me io di profezie ancora non ne ho viste quindi so benissimo qual è il mio livello se viene qualcuno e mi dice quanto sei brutto non mi devo offendere se viene la Mishnah e mi dice tu povero mortale che sei biasimevole dal fatto che non studi Torah in italiano non ha assolutamente il colore che ha in lingua originale a tutto un altro colore ci stanno prendendo a calci e io devo dire grazie perché solo così ne posso venire fuori ho un certo livello della mia anima che ha bisogno di questo che ha bisogno di essere spinto verso l'alto e quindi a volte bisogna parlare con questo linguaggio quindi lo psicologo che usa il sogno non è sbagliato ti sta dicendo adesso poi ci sono quelli bravi ci sono quelli che non entro in merito però il concetto è giusto il concetto è giusto grazie per aver fatto questa precisazione io volevo aggiungere una cosa ma il Talmud sul Talmud non c'è scritto che chi cioè leggere cioè avere un sogno e non saperlo leggere è come ricevere una lettera e non aprirla vero e questo non dà un'importanza particolare al sogno dà un'importanza molto particolare al sogno per colui che sa leggere è come uno che noi siamo persone che riceviamo lettere in una lingua che non sappiamo leggere questo è quello che ci sta dicendo il Tani ecco perché ti ritrovi a non avere nessun sentimento ti uso questo esempio qua io ho tutta la famiglia in Giappone e mi mandano delle lettere continuamente dal Giappone in giapponese e io non mi preoccupo neanche di aprirle perché tanto non le so leggere e non mi interessa è una cosa bruttissima quindi quando mi arriva una lettera dal Giappone e io non la so interpretare dovrei almeno sentirmi male e se mi sento male devo andare a rompermi la testa e imparare il giapponese perché solo così posso comunicare con la mia famiglia allora io non capisco il messaggio che sta mandando il Tania il Tania sta dicendo che tu non stai ricevendo delle profezie che i sogni sono delle profezie se tu non ricevi delle profezie vuol dire che sei a un livello così basso che non ti devi preoccupare se ti fanno a pezzi quindi non aspettare che siano gli altri a farti a pezzi si dice che ogni tanto capita nella vita che una persona si trova in difficoltà sono segnali che Hashem dà non vuole Hashem dare questi segnali Hashem vuole che noi prendiamo sempre la strada giusta ma ogni tanto Kadosh Baruch Hu ci dà una scossa perché altrimenti non ci muoviamo un bambino deve alzarsi per andare a scuola se quando il genitore si alza al mattino e lo vede già in piedi già vestito gli fa un sorriso se invece quello ancora a letto e lo sveglia non si alza e lo sveglia non si alza e gli spinge la coperta non si muove e inizia a insultare inizia a dire non voglio andare a scuola cosa deve fare il genitore c'ha l'esame oggi deve prendere provvedimento deve fare cose che un genitore non vorrebbe fare non vorrebbe mai fare questo è un pochino il significato tornando ai sogni se io mi trovo nella situazione in cui come questo bambino non mi interessa della scuola dell'esame non mi interessa di niente allora dice l'autore del Tania sei una persona che deve essere presa come questo pezzo di legno è un pochino frammentata quindi mi baso su quello che dice il Talmud facciamolo noi così non lo devono fare in cielo dice il Talmud una frase bellissima chi giudica se stesso qua giù in cielo non viene giudicato perché quando arriva il momento di giudicarlo i giudici lo vedono e gli dicono ma lui si sta già occupando di se stesso anche se fa un po' fatica non ha importanza ma è presente è cosciente della sua situazione ma quando una persona è ottuso talmente insensibile da non sapere neanche di avere un problema è convinto di essere la perfezione quando è lontano mille anni luce dalla realtà dal emet e quindi gli dice l'Eltania e guarda che un animale della foresta sta meglio di te come dicono i hachamim che la zanzara è superiore all'uomo perché la zanzara è come un robot e non trasgredisce mai la volontà di Hashem allora mi metto davanti tutte queste informazioni per poter migliorare me stesso due minuti sui sogni di Yosef se mi date ancora due minuti abbiamo iniziato un pochino in ritardo quindi abbiamo ancora un pochino di tempo abbiamo letto ieri i sogni del faraone così abbiamo iniziato ieri la lettura del Sefer delle sette mucche grasse delle sette mucche magre delle spighe grasse delle spighe magre che hanno inghiottito quelle magre a quelle grosse Yosef è stato tirato su dal pozzo è stato lavato vestito pulito reso presentabile davanti al faraone si presenta al faraone ascolta i sogni e li interpreta in modo magistrale anche nel parasha precedente abbiamo letto dei sogni i sogni di Yosef con i covoni di grano e il secondo sogno che era il cielo il sole la luna e le stelle ho sentito questa settimana una cosa carina che Yosef aveva undici fratelli infatti ha sognato undici stelle però Yosef aveva anche una sorella si chiamava Dinah e nel sogno Yosef sogna undici stelle che si inchinano a lui e dov'è la sorella Dinah? perché fanno questa differenza tra maschio e femmine allora uno simpaticamente ha risposto che la storia ci racconta che Yosef ha sposato a Snath o Snath oggi in ebraico che è la figlia di Dinah in altre parole Dinah sua sorella era anche sua suocera e lui scherzando diceva e tua suocera non si inchina a te neanche nel sogno quindi scordatelo Yosef di vedere nel sogno tua suocera che si inchina a te torniamo a noi paragonare i sogni di Yosef ai sogni del faraone ci viene difficile perché troviamo subito delle differenze sostanziali sostanziali Yosef rappresenta la santità il tzaddik gamur che va nel posto più morale e rimane tale e insegna agli altri illumina Mitzraim della sua luce dall'altra parte chi abbiamo il faraone che è l'altra parte come dice lo Zohar il Tanya l'altra parte quali sono le differenze i sogni di Yosef iniziano subito con un campo e nel campo c'è il grano e il grano significa lavoro e il grano viene raccolto vengono fatti questi gruppi questi covoni che si alzano in piedi tutto questo rappresenta la fatica il sudore il lavoro infatti sono le parole stiamo lavorando stiamo creando questi covoni in mezzo al campo nei sogni invece del faraone non si parla assolutamente di nessun tipo di lavoro fisico di fatica di sudore ci sono delle mucche e ci sono delle spighe e non c'è nessuno che sta facendo niente cosa ci insegna la Torah col sogno di Yosef che nella Kedushah abbiamo bisogno di faticare perché dato che il bene che la Torah che la Kedushah ci offre è reale ed è una cosa pura e positiva abbiamo sempre bisogno di lavorare per ottenerlo quando una persona riceve in regalo del pane si chiama il pane della vergogna tutto quello che riceviamo in regalo c'è un pasù che dice sonema tanotehie colui che odia i regali vivrà a lungo ci sono molte spiegazioni ma il concetto è non chiedere niente in regalo perché non avrai un vero piacere non godrai realmente di quello che hai ricevuto in regalo quindi ha fissato nel suo mondo che il vero bene è un bene che otteniamo soltanto tramite fatica e lavoro tutto quello che arriva invece dall'altra parte non è reale tutto quello che arriva dalla parte che non è Kedushah è una cosa che non ha continuità e per quello che nei sogni del faraone non c'è nessun tipo di lavoro la seconda differenza è che nei sogni di Yosef c'è una direzione dal basso verso l'alto e invece nel sogno del faraone è esattamente al contrario nei sogni di Yosef si iniziano con le spighe che si uniscono e diventano dei gruppi diventano dei covoni e dopo sogna un sogno molto più elevato perché nel primo sogno anche Yosef era un covone nel secondo sogno non c'è una stella che si chiama Yosef il sole la luna e le stelle si inchinano a me diceva dal farone invece lui parte dal livello superiore che è il livello del mondo animale le mucche e poi scende di livello e va nel livello vegetale che è il grano e questa è una direzione in discesa alla fine vede all'inizio vede le mucche sane le mucche grasse e poi vede le mucche quelle striminzite la stessa cosa anche con il grano prima vede questi scibolim queste spighe belle grasse e poi in discesa e che le spighe magre ingoiano e le mucche magre ingoiano le mucche grasse e le spighe grasse e non vedi niente del benessere che c'era prima e quindi il significato di tutti questi sogni è che nella Kedusha noi troviamo l'infinito le differenze che ci sono sono solo differenze sempre in salita sempre verso l'alto come dice David Amelech saliranno da gradino a gradino il Talmud dice che i Talmidech non hanno pace né in questo mondo né nel mondo avvenire perché sono in una continua elevazione continua salita dall'altra parte invece tutto quello che non arriva dalla Kedusha non ha una reale continuità tutto quello che noi vediamo in questo mondo è pura fantasia è un come si dice in italiano Ashlaia è una illusione illusione bravissimo è soltanto per metterci davanti a a questa prova che si chiama il mondo quando una persona riesce a capire e riesce a rivincere questi ostacoli perché non sono altro che un'illusione in questo mondo è un teatro arriva il giorno in cui ti tirano via tutti gli sfondi e ti tirano via tutte le luci e ti ritrovi davanti ad Hashem e dov'è il mondo tutti i suoi piaceri tutte le sue tentazioni non sono mai esistite è una illusione totale perché non c'è Kedusha dove non c'è Kedusha c'è solo illusione quindi cosa abbiamo imparato che nel mondo della Kedusha dobbiamo faticare per raggiungere dei livelli come dice il Tanya i sogni se tu sei un Tzadik i sogni hanno un significato perché hai faticato sei arrivato al livello in cui puoi comunicare attraverso i sogni poi se sei un Tzadik ancora più grande come Moshe Rabbe non hai bisogno di sognare per comunicare perché questa è la regola di questo mondo bisogna faticare per raggiungere qualsiasi livello un'ultimissima cosa legata ai sogni sappiamo che il sogno è quello che ha portato Yosef a diventare vicere Yosef che diventa vicere porta Yaacov e i suoi figli in Egitto quindi l'inizio dell'esilio l'inizio del Galut è stato causato da un sogno su questo siamo tutti d'accordo quindi il sogno nel sogno del Faraone riusciamo a trovare fare uno più uno trovare il Galut nel sogno del Faraone infatti noi sappiamo che proprio il Galut l'esilio è chiamato sogno come dice Davide Melech quando torneremo con Mashiach Yerushalayim ricostruito e tornerà la gloria che merita ci renderemo conto che eravamo dei sogniatori stavamo sognando in questo periodo dell'esilio come dice anche Shlomo Amelech Hashem dice il tempo del Galut Hashem dice come se io stia dormendo qual è il legame abbiamo detto c'è il legame tra il Galut l'esilio e i sogni capire che cos'è un sogno ci spiegherà tutto quanto una delle differenze diciamo più centrali tra una persona sveglia e una persona che dorme e sogna è che nel sogno una persona può unire cose opposte cose che da sveglio non si può fare ad esempio nel sogno ho visto il mio trisnonno che parlava col mio bisnipote ma scusa il tuo trisnonno ha vissuto nell'ottocento tuo bisnipote non è ancora nato ma nel sogno si può unire tutto posso vedere come dice la Gemara un elefante che passa attraverso il buco di un ago posso essere in Australia e vedere l'isola d'Elba in un sogno in un sogno può succedere tutto così come il faraone che ha visto le mucche magre che mangiavano le mucche grasse sono rimaste magre lo stesso con le spighe quando una persona invece sveglia tutto questo è impossibile ieri e ieri oggi e oggi domani e domani e l'elefante non può passare in un buco di un ago non è possibile cose opposte non sono reali questa è la differenza che c'è i tempi del Galut con i tempi del Betta Migdash con i tempi di quando arriverà Mashiach quando arriverà Mashiach ci sarà una netta distinzione tra il bene e il male una persona che è vicina ad Hashem non è una persona che è lontana ad Hashem una persona che è lontana ad Hashem non è una persona che è vicina purtroppo oggi ci troviamo in una situazione in cui noi possiamo unire tutto quanto insieme possiamo avere un amore potente stiamo cuocendo di amore verso Hashem un amore che frema e nello stesso momento possiamo pensare a qualcosa che è tutto l'opposto della volontà di Hashem hanno visto in Israele che i ladri che entrano nelle case a rubare baciano la mezuzà chiudono gli occhi e poi entrano in casa a rubare ma che cosa stai facendo se tu credi in Hashem che baci la mezuzà la Torah ti dice non rubare se tu rubi non credi in Hashem cosa baci la mezuzà perché siamo in Galut e in Galut gli opposti si uniscono c'è gente che vuole così tanto andare al Betakneset di Shabbat che prende la macchina al Va Betakneset ma non si può prendere la macchina di Shabbat perché siamo in Galut e il Galut è tutta una confusione il Galut sono tutti gli opposti che si uniscono e quindi possiamo essere qui possiamo essere lì possiamo un minuto essere amanti di Hashem nell'altro minuto possiamo essere amanti di una cosa vietata e quindi dobbiamo capire che ci troviamo in un sogno che la vita della Kedusha non va insieme con la vita della trasgressione e quindi quando una persona sa che si trova un sogno e che cos'è un sogno può un attimino svegliarsi e prendere diciamo i giusti provvedimenti per essere una persona reale una persona vera come dicevamo prima nella realtà c'è solo salita invece nella confusione e nella fantasia nella illusione si va soltanto in basso era un semplice e piccola una semplice e piccola riflessione sui sogni che stiamo vivendo in questo periodo speriamo che arrivi presto il giorno di cui ci svegli da questo sogno e ci riporti ad essere le vere e reali persone che siamo ciao 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 ciao